Buongiorno, buongiorno e ben trovati Buongiorno da mattino 6, buongiorno da parte di tutta la redazione di TV6 Iniziamo la nostra rassegna stampa con le testate nazionali e poi quelle locali Chiaramente sulle testate nazionali tiene banco e trova grandissima attenzione ovviamente l'abbattimento del caccia russo Mentre per quanto riguarda le testate locali in primo piano c'è la sentenza per il processo rifiutopoli Con l'assoluzione di tutti gli imputati ma chiaramente ci dedicheremo anche poi alle pagine sportive Sempre dei quotidiani locali con particolare attenzione sulla Serie B e sulla Lega Pro Iniziamo dunque la nostra rassegna stampa vedendo la prima pagina odierna del Corriere della Sera Jet abbattuto l'ira di Putin, la Turchia spara al confine con la Siria Obama si schiera con Erdogan, Tunisia strage di poliziotti Mosca ucciso uno dei piloti, colpito un elicottero dei soccorsi Lavrov cancella la visita ad Ankara, riunito il Consiglio Nato Sotto la testata Valeria e i giusti che non muoiono ieri i funerali a Venezia Della sfortunata studentessa della Sorbona perita negli attentati di Parigi C'è l'editoriale di Sabino Cassese, la sfida del terrore degli stati e l'ordine mondiale Poi in basso cellule, armi, bersagli, il manuale d'attacco degli jihadisti in Italia Indagini e documenti ritrovati a Bologna Questa è la prima pagina del Corriere della Sera Andiamo a vedere ora la prima pagina della Repubblica Questo è il titolo Guerra tra Putin ed Erdogan Ancara abbatte un jet russo, la minaccia di Mosca Ora conseguenze tragiche USA schierati con la Turchia La Nato alta le tensioni Hollande incontra Obama Un altro terrorista in fuga Notte di paura in Francia Ostaggi dopo una rapina Poi per lo sport Piccola Roma Messi la travolge Sei gol e show del Barcellona E poi ancora la fotonotizia con l'addio a Valeria Con tre religioni come scrive la Repubblica L'editoriale, il confine fragile dell'alleanza anti-isis Un tema questo che sarà poi toccato anche dalle prossime testate che vedremo In basso Renzi due miliardi per la sicurezza e ai diciottenni regalo da 500 euro E poi ancora la cronaca A Milano orefice sequestrato uccide un ladro sparatoria in casa Volevo proteggere la mia famiglia E poi ancora la prima pagina Che andiamo a vedere quella del giornale Che apre così Guerra mondiale A un passo dal baratro La Turchia abbatte un aereo russo Che volava al confine con la Siria L'era di Putin ci saranno conseguenze Così Ankara aiuta l'isis Sotto la testata anche in questo caso I funerali della sfortunata Valeria L'addio a Valeria nella terra di nessuno Poi il fondo del direttore Alessandro Sallusti Dolore privato, fermezza pubblica In basso il caso Mantovani I toghe che odiano la pletora di politici Le sprezzanti motivazioni dei giudici sui domiciliari Dell'ex numero due del Pirellone E poi ancora la preveggenza di Segre Il ritorno dell'impero ottomano In basso la conquista di Roma I cinesi trasformano la zecca di Stato In un hotel Andiamo a vedere ora la prima pagina Del fatto quotidiano Vescovo di Comunione e Liberazione Francesco deve fare la fine di quell'altro Papa Il presule di Ferrara Monsignor Negri contro il Pontefice E due colleghi Bergogliani E poi ancora Fuoco amico Si sfascia il fronte anti-ISIS Russia e Turchia in guerra Ankara batte caccia russo Putin parla di effetti tragici Il presidente USA Obama difende l'alleato Nato Hanno diritto di difendersi Hollande l'alleanza Resti Unita Gli attentatori di Parigi ancora irrintracciabili E poi Polizia e Cultura Renzi ritenta con l'UE Flessibilità darò 80 euro ai poliziotti E poi andiamo in taglio medio Marino Renzi vuole rinviare le elezioni Mi ricandido Dopo di me risorge il partito degli affari E poi ancora Vatilix tutto insabbiato Zero indagini sugli sprechi Pro e contro Torna Bassolino Paolo Isotta dice sì Henry De Luca dice di no E poi le parole di Renzo Arvore Volevo fare il magistrato Ho studiato sette anni Ma mi bocciavano Andiamo ora E con questo chiudiamo le testate nazionali Andiamo a vedere la prima pagina del messaggero E chiaramente il tema è sempre quello E non può essere altrimenti Turchia, Russia 20 di guerra Jet russo abbattuto dai turchi ai confini della Siria Ankara ha sconfinato ignorando gli avvertimenti Putin una pugnalata alla schiena Conseguenze tragiche Obama con Erdogan ha diritto a difendersi E poi il fuoco amico fra gli alleati anticalifato Nell'editoriale di Giulio Sapelli Che parla di strategie confuse L'inchiesta di Parigi C'è un secondo terrorista ISIS In fuga con Salah E poi ancora per lo sport Scandalo FIFA Platini chiesta la squalifica a vita Addio successione al trono di Blatter Champions Paradosso Roma KO 6 a 1 a Barcellona Ma il passaggio agli ottavi è più vicino E poi ancora Piano di Renzi 2 miliardi per la sicurezza e la cultura Gli 80 euro estesi anche agli agenti Bonus per i neo diciottenni L'addio a Valerio E tre religioni in piazza Il padre E esempio per chi non si arrende E poi ancora Terrore a Tunisi Strage sul bus militare Uccise almeno 12 guardie presidenziali Bomba sul veicolo Sospetti Sulla Jihad Lasciamo le testate nazionali E andiamo ora con quelle locali A partire dal centro Come detto Nelle testate locali Massima attenzione Sulla sentenza per il processo Rifriutopoli Allora L'apertura del centro Abbiamo pensato a un terrorista Fuga e sparatori I testimoni raccontano La serata di paura A Montesilvano Serata di lunedì Poi Due richiami sotto la testata Abbattuto oggetto russo L'ira di Putin contro la Turchia L'abbraccio dell'Italia A Valeria Solesin Il terrore ha perso E poi Come detto La fotonotizia La sentenza dopo 5 anni Rifiuti Assolti i fratelli di zio Venturoni E di Stefano Per lo sport Il bomber La padula Voglio la serie A Con il Pescara Le voci di mercato Non ci penso Voglio la Con il Pescara Richiami di cronaca A Pescara Sempre Sia al bilancio Corte dei conti Salva il comune Le tasse restano Poi Svelato il progetto Nuovo stadio L'Adriatico Sarà demolito I genitori protestano Ecco la scuola Con i bagni Senza le porte A Montesilvano Sempre a Pescara Si getta nel fiume Salvato Passante E poliziotti Recuperano Un pescarese Dall'acqua E poi Il buongiorno Abruzzo Di Giuliano Di Tanna Il governatore Il grillino E in 200 mila euro All'interno Del centro Ecco qui Le pagine Dell'Abruzzo Tutti assolti Venturoni Di Zio E di Stefano Scagionati Dallo scandalo Rifiuti La procura Li accusava Di tangenti E corruzione Per il giudice Il fatto non sussiste O non c'è reato L'ex assessore Medico In lacrime Incubo finito Guidare la sanità Mi ha portato Sfortuna Le parole Queste sono Appunto L'ex assessore Regionale Alla sanità Lanfranco Venturoni Qui lo vediamo In un momento Di sollievo Dopo la sentenza Di ieri E poi In basso Troppe teorizzazioni L'avvocato Marconi Esulta Esiste La giustizia Giusta Così L'avvocato Difensore Dell'ex assessore Venturoni E poi Ancora Ci sono altre reazioni Quelle ad esempio Dell'ex presidente Della regione Gianni Chiodi Lanfranco Persona onesta E il deputato Ora Aspetta le scuse Il deputato E chiaramente Fabrizio Di Stefano E poi Cinque anni fa Quelle tritacarne Tra politica E affari E c'è Appunto Uno Stralcio Qui Della Prima pagina Del centro Del 23 settembre Del 2010 Andiamo avanti Nuovi orari Dei medici Turni di riposo Di 11 ore E gli ospedali Vanno in tilt Entra in vigore La legge Che mette un limite Al super lavoro Dei reparti Buona L'accoglienza In corsia Ma ora Il personale Non è più Sufficiente In basso Attente all'utilizzo Degli specializzanti Di staso Invece Delle assunzioni Si ricorrerà Ai medici Informazione Ma ci sono Dei rischi Poi ancora Scuola Lavoro Via agli stagi A partire dal terzo anno Protocollo di intesa Tra ufficio scolastico regionale Confindustria Abruzzo Interessati per la prima volta I licei Previsti Laboratori E piattaforme E learning In basso La tradizione Che si fa apprezzare all'estero Il bocconotto A tavola A Londra Il dolce Di Castelfrentano Sarà servito in un ristorante Della City E poi ancora La cronaca A Pescara Poteva causare una strage Ecco chi ha Ingaggiato L'inseguimento Con i carabinieri E ha provocato Otto Incidenti In quella che Come titola Il centro È stata la serata Di terrore A Montesilvano Niccoli Renoir 25 anni Albanese Senza fissa di mora Si è chiuso nel silenzio Dopo l'arresto I carabinieri Hanno sparato Nove colpi Per riuscire a fermare La sua fuga A bordo Di un'auto Rubata Questa è la Carcassa Appunto Di una Delle auto Che sono state Colpite Dalla Mercedes Guidata Appunto Dal 25enne Albanese E quel che resta Di una Berlingua Qui vediamo Altre Altre carcasse In particolare Questa è la Mercedes Che è stata Utilizzata Proprio Dal 25enne Albanese Una paura Assurda Abbiamo temuto Fosse un terrorista Ecco i racconti Di chi ha assistito Alla scena di terrore Mi sono nascosto Dietro al muro Dopo aver sentito I colpi Poi Ancora Sempre Per la Cronaca Dramma Al ponte Capacchietti Salvato In mezzo Al fiume Da passante E poliziotti Tragedia Evitata Per un Pescarese Di 43 anni Recuperato Mentre stava Affogando I racconti Di chi ha cercato Di fermarlo E di chi L'ha tirato fuori Dall'acqua E poi Ancora Ogni giorno Una donna Picchiata dal marito Da gennaio A ottobre Sono 334 i casi Di maltrattamenti Di cui si è Occupato Il pronto Soccorso Causa Ad Alfonso Pettinari 50 grillini Invadono L'aula Contenzioso Da 200 mila Euro Tra il presidente Il consigliere Regionale Del Movimento 5 Stelle Primo scontro Tra le difese Sui tempi Dell'acquisto Prossima Udienza Tra Sei Mesi Il grillino Io controllo Faccio solo il mio dovere Il presidente Superati I confini Della Civiltà E poi In basso Il bullismo Giuridico Dei politici Le reazioni Il Movimento 5 Stelle Non ci fermeranno I cittadini Domenico Ci ha difeso Stiamo Con lui E su questa Vicenda Abbiamo realizzato Un servizio Che abbiamo proposto Nei notiziari Di ieri Vediamo Prima Prima udienza Al tribunale Di Pescara Per il caso Del risarcimento Chiesto dal governatore D'Alfonso Al consigliere regionale Domenico Pettinari Il caso È quello Dell'edificio Dell'asle Di via Rigopiano Che già Tante polemiche Aveva suscitato Domenico Pettinari Circondato Da sostenitori E colleghi Non mostra debolezze Piena fiducia Nella magistratura Come ho sempre avuto Nella mia vita E Il presidente D'Alfonso Ricordo che in aula Ha detto Che è la prima volta In vita sua Che era stato costretto A citare in giudizio Un avversario politico Sono contento E soddisfatto Per i grandi Attestati di stima E di fiducia Di solidarietà Da parte dei cittadini Oggi Qui ci sono Decine e decine Di cittadini Questo mi fa piacere E nulla Aspettiamo Il verdetto Della magistratura A difendere il grillino E l'avvocato Donatella Rossi Il governatore D'Alfonso invece Si è affidato A Carla Tiboni La prima udienza Finisce con un rinvio Al 3 maggio Per ammissione Dei mezzi istruttori A sostenere In aula Domenico Pettinari C'è anche La consigliera Regionale Sara Marcozzi Che commenta così L'azione legale Messa in campo Dal governatore D'Alfonso Il Movimento 5 Stelle Pensa che questo È il presidente Di regione Più debole Della storia D'Abruzzo Se un presidente Di regione Non è in grado Di rispondere Alle domande Che un consigliere Regionale fa Nello svolgimento Delle sue funzioni E prerogative Ed è costretto A ricorrere Alle aule Di un tribunale Questo è solo Un segno Di grande debolezza Del presidente D'Alfonso E o di grande forza Del Movimento 5 Stelle Che evidentemente È l'unica vera opposizione Mai esistita Quella che ha fatto Pettinari È una domanda Che si sarebbero fatti Tutti i cittadini È una domanda Legittima Perché se un palazzo È stato acquistato Due anni fa 900.000 euro La regione Abruzzo Lo ha acquistato 3 milioni di euro I cittadini Se la sarebbero fatta Questa domanda La Corte dei Conti Salva il Comune Ma le tasse Resteranno al massimo La magistratura Contabile Approva il piano Per risanare Il bilancio Ha evitato Il distesto finanziario Arrivano In arrivo 33 milioni Dallo Stato Sul pizio Avverte Per adesso Non possiamo Ridurre Le imposte E poi La vicenda Dello stadio Adretico Cornacchia Di cui tanto si è parlato In questi giorni Lo stadio va Completamente demolito Svelati in commissione Alcuni particolari Del progetto Del nuovo impianto Sei anni fa La ristrutturazione Costò 10,8 milioni Anche in concomitanza Ricordiamo Con i giochi Del Mediterraneo Di Pescara 2009 E poi ancora Mercato Nell'ex parcheggio Sì di Asle Vigili I primi pareri Favorevoli All'utilizzo Dell'area D'accordo anche Ferrovie dello Stato I senegalesi Un'ottima scelta Provincia Rischio Paralisi Mancano 10 milioni Il presidente Di Marco Dice da scongiurare Italia Altrimenti niente Fondi per le scuole Strade Oggi L'incontro con i parlamentari Per gli emendamenti Alla legge Di stabilità E poi Una iniziativa Sociale A cui ha aderito La Pescara Calcio Oddo Incontra I diversamente Giovani Scherzi Battute Per richieste Di autografia Tecnico E giocatori Dall'università Della terza età Andiamo avanti Sempre con le pagine Della cronaca In provincia di Pescara Siamo a Montesilvano Bagni senza porte Alla media Silone Proteste dei genitori Raccolte 200 firme Per denunciare Il disagio Degli studenti In toaletta Turno E Bidelli Utilizzati Come sentinelle Questi i problemi Dell'istituto Comprensivo Poi Sempre in Provincia Di Pescara Nell'area metropolitana Stoppa I rumori Dei treni Ecco Gli attenuatori Acustici Francavila È la prima città italiana A sperimentare Il nuovo dispositivo Di RFI Per abbattere I decibel Percepiti Lungo la ferrovia Si comincia Con 600 metri E poi Ancora Spiragli Per l'ospedale A Popoli La regione Blocca i tagli L'assessore Paolucci Annuncia un piano In un incontro pubblico Il deputato Castricone È soddisfatto Ora Vigilerò Affinché Tutto ciò Si Realizzi Poi ancora Siamo nelle pagine Di Chieti Gli effetti Della nuova Carichieti Il giorno dopo La fondazione Addio al Palazzo I risparmiatori Sarà Class Action La liquidazione Della vecchia banca Costa Cara Palazzo De Maio Andrà almeno in parte Sul mercato Il caso di un correntista Convinto Da un dipendente A investire 30 mila euro In obbligazioni Subordinate Poi in basso Labi Vendita all'asta E in tempi Rapidi Il presidente Dei banchieri Patuelli L'obiettivo è Aggregare Gli istituti Ad altri gruppi Italiani O esteri I sindacati Figliali Prese d'assalto I colleghi Devono essere Aiutati Richieste Al vertice Della nuova Banca Poi in basso Università Del Vecchio Resta Al suo posto Fallisce L'attacco Al direttore generale All'ultimo minuto Il pareggio Ma il voto Del rettore Vale doppio A Lanciano La cronaca Sequestrò La compagna In casa A processo L'aveva segregata E poi aggredita Quando lei Aveva provato a fuggire Presi a calci e pugni Anche i carabinieri Intervenuti All'Aquila Le inchieste Del post terremoto Che continuano Ad avanzare Mazzette Nuovi guai Per Fontana L'architetto Ex carpo Della struttura tecnica Di missione Rischia il processo A Roma Per il Reato di corruzione Le accuse Del PM Compiuto Un atto contrario Ai doveri D'ufficio Attraverso L'assunzione Del consulente Nigris Uomo di fiducia Di gruttaduaria Poi in basso Affoghe il cane Del suo ex Va ai domiciliari A Prato La donna ha perseguitato Per mesi L'uomo E sua moglie Arrivando a uccidere Il cucciolo La pagina Di Teramo Provincia Bimbe Uccise il racconto Samira A 16 anni Si prese la famiglia Sulle spalle Un amico Di Martinsicuro Quando tra i lupidi Esplose il dramma Della madre La ragazza Seppe occuparsi Del padre E dei fratelli Era già matura E forte Poi in 18 Sottoprocesso Per le false Badanti L'accusa Imbrogli Con la sanatoria In basso Sgomberata Una famiglia Rom Abusiva Giulianova Occupava una casa Popolare Anche se Proprietaria Di una villetta A Cologna Possiamo lasciare Le pagine Del centro Prima di andare A vedere Il messaggio Arabruzzo Facciamo il nostro Break Meteo Con Giovanni De Palma A cui do Il buongiorno Giovanni Buongiorno Andrea Buongiorno a te E a tutti I telespettatori Subito le ultime Allora Andrea Come avevamo già Annunciato Nei giorni scorsi La situazione Sulla nostra regione È in peggioramento In peggioramento Perché sta per arrivare Un'intensa perturbazione Di origine atlantica Sospinta da masse D'aria fredda Di origine polare Questa perturbazione Inizierà A produrre I propri effetti A partire Dal pomeriggio Sera È nel corso Della nottata Mentre nella Prima parte Della giornata Comunque ci saranno Degli annuvolamenti Sul versante orientale Lungo la fascia costiera Entreschierite Interesseranno Le restanti zone Della nostra regione Quindi ancora Ancora una situazione Di attesa Quella odierna Ma a partire Da stanotte Da stasera Stanotte Questa perturbazione Raggiungerà L'Italia centrale E favorirà La formazione E l'approfondimento Di una profonda Circolazione Depressionaria Che stazionerà Per almeno 48 ore Sulle nostre regioni Centro-meridionali E produrrà Fenomeni Intenso maltempo Anche sulla nostra regione Maltempo Che si manifesterà Con piogge diffuse Intense E localmente Anche persistenti Soprattutto sul settore Orientale Della nostra regione E lungo La fascia costiera Mentre copiose Nevicate Interesseranno I nostri rilievi Al di sopra Dei 1000-1300 metri Ma localmente La neve Potrà scendere A quote Lievemente Inferiori Soprattutto in caso Di precipitazioni Piuttosto intense Quindi Questa situazione Di maltempo Con forti venti Di Bora Prima E tramontana Poi Continuerà Ad interessare La nostra regione Per tutta la giornata Di giovedì E almeno Fino a venerdì sera Quindi una situazione Questa di allerta Allerta meteo Perché le precipitazioni Potrebbero essere Anche piuttosto Consistenti Sulla nostra regione Ripeto In particolar modo Sul versante orientale Della nostra regione Dove è previsto Anche un deciso Aumento Del moto ondoso Con delle mareggiate Le temperature Sono previste In diminuzione Ma la tendenza Poi è verso Un graduale Miglioramento Delle condizioni Atmosferiche A partire Dalla mattinata Di sabato Ancora più Nella giornata Di domenica Anche se L'arrivo Di massi Ancora di massi D'aria fredda Dai quadranti Settentrionali Favorirà Probabilmente ancora Degli annuvolamenti Sulla nostra regione Ma certo è che Il maltempo Comunque Si attenuerà Non ci saranno più Le piogge diffuse Ed intense Che avremo invece A partire da stasera E nelle 48 ore Successive Andrea Quindi una situazione Di allerta Questa Ha previsto A partire Ripeto A partire Da stasera E nelle 48 ore Successive Senti E per chi Dovesse andare A Cesena Venerdì sera Massima attenzione Quindi Si diciamo Massima attenzione Perché ripeto Il maltempo Interesserà La nostra regione E raggiungerà Ovviamente Anche le vicine marche Mentre in Romagna Comunque In terra romagnola Non dovrebbero Eserci particolari Problemi Non ci dovrebbero Essere le precipitazioni Che interesseranno La nostra regione Quindi Maltempo Fino Diciamo Fino ad Ancona Se così possiamo dire Poi successivamente Più a nord Insomma Non ci saranno problemi Perché ripeto Questa figura depressionale Interesserà Soprattutto Le regioni Centro-meridionale Adriatiche Andrea Ti ringrazio Giovanni Ti auguro Una buona giornata Grazie Andrea Una buona giornata Anche a te E a tutti i telespettatori Di TV6 Grazie Grazie a Giovanni De Palma Riprendiamo la nostra Rassegna stampa Dunque con il messaggero Abruzzo L'apertura è questa Rifiutopoli Flop Tutti assolti Pescara Crolla l'accusa Della maxi inchiesta Sul bioessiccatore Da costruire A Teramo 40 minuti Di camera di consiglio Formula piena Per Benturoni Di Stefano E di Zio Teramo La fondazione Dice addio Addio al logo Tercas Sotto la testata La giornata Convegni Con certi E spettacoli Contro la violenza Sulle donne Credito L'Aquila Momano Le BCC Si alleano Nasce La banca Del Gran Sasso Ancora per il credito Decolla La nuova Carichietti Focus Sul piano Degli Esuberi Tensione Agli sportelli Con i detentori Dei bond Subordinati Azzerati Banca Intesa Ribadisce Non siamo Interessati A entrare Il protocollo Scuola Lavoro Confindustria Accoglie Gli studenti La fotonotizia Tempi brevi Per il viadotto Della Mausonia D'Alfonso A A favore Della Bretella Antitraffico Poi ancora Aperture Serali La rivoluzione Della D'Annunzio Dopo Teramo Si parte pure A Chieti Pescara Aule e Strutture Disponibili Fino a Mezzanotte Entriamo All'interno Del messaggero Abruzzo Grande Pescara Rinviato Il voto Sul referendum D'Alfonso Non funziona Cherel Surreale In aula Due minuti Di silenzio Prima per le vittime Del terrorismo E poi per quelle Del raid Sulla Siria Poi ancora Cera celebrata A San Giustino La Virgo Fidelis Cerimonia Per la Protettrice Dell'arma A L'Aquila Ricostruzione Ecco 70 milioni 57 per le chiese 13 per le scuole La delibera La delibera Cipe numero 77 Pubblicata Lo scorso 17 novembre In gazzetta ufficiale Porta la firma Del premier Renzi Dato il via libera Solo agli interventi Certamente Cantierabili Entro il 2015 Nell'elenco Non c'è San Massimo I cui fondi Sono stati tolti E spostati Altrove E poi corruzione E chiesto il giudizio Per Gaetano Fontana Ancora Avanti Sempre all'Aquila D'Alfonso Lancia Il ponte Della Mausogna Il governatore Annuncia Tempi stretti Per la costruzione Del viadotto Di 400 metri Per collegare Il centro storico Cialente Ringrazia il presidente Quando gli parlai Di questa idea Non ebbe esitazione Intuendone Subito La strategicità Il maxiviadotto Ha scatenato Centiniane di commenti Sulla rete Degli Aquilani Pochi I favorevoli E poi Bcc L'Aquila Si unisce A Bcc Vomano Nasce La nuova Banca Del Gran Sasso L'assemblea Dei soci Ieri Ha detto Sì Alla proposta Regista Il presidente Del comitato Americo Di Benedetto E poi La giornata internazionale Violenza Alle donne Tante le iniziative La buona scuola In missioni In ruolo La carica Dei 300 docenti Tra mille dubbi E preoccupazioni E poi Albergo E Ostello Fontari Cambiano Le Cambiano Gestione Le due strutture Ricettive Assegnate Alla società Teramana Medice Costituitasi Nel luglio Scorso In Marsica O meglio A Sulmona Quindi Nella Valle Peligna Da amante Delusa stalker Arrestata La donna Ai domiciliari Avrebbe anche Ucciso Annegandolo Un cucciolo di cane Che il suo ex Aveva appena Adottato Sei mesi di follia E ossessioni Che hanno portato L'accusata A perseguitare Il precedente Compagno E la moglie Di questi L'avvocato difensore Alessandro Margiotta Ha chiesto di sottoporla A una perizia Psichiatrica E poi Stadio Pallozzi Sempre a Sulmona La società Ovidiana Ricorre Al Tar A Pescara Come abbiamo visto Rifiutopoli Tutti assolti Con formula piena Dopo sei anni Si chiude il processo Sul bioessiccatore Da costruire A Teramo Il collegio Polverizza le accuse Crolla l'ipotesi Del patto Tra il re dei Difiuti Di Zio E Venturoni Che al tempo Era anche presidente Della Teramo Ambiente Cade la presunta Influenza Illecita Esercitata Dall'Onorevole Di Stefano Il fatto Non sussiste Poi ancora Le reazioni L'ex assessore La giustizia Esiste Il parlamentare Doveva finire così La telefonata Del politico Teramano Alla moglie Guardando i fatti Si capiva Che non c'era Nulla Di concreto E poi la cherelle D'Alfonso Pettinari Slitta a maggio La richiesta di danni Grillini In tribunale In basso Eco M In vendita Anche i cassonetti Anche automezzi E veicoli industriali Andranno al migliore offerente Si può partecipare al bando Fino al 15 Piano Antidissesto Arrivano 33 milioni Per ripianare i debiti Il sindaco Alessandrini Ottiene il sì Dalla corte dei conti E i soldi Dal ministero Degli interni Per evitare Il default Poi In In campo La città in campo Al fianco delle donne Venne presentato Il programma delle manifestazioni Per la giornata mondiale Contro la violenza Di genere Poi Le scene Da far west Che sono avvenute Lunedì sera Tra Cappelle E Monte Silvano Due furti Prima Della fuga Da far west Un albanese Di 25 anni Senza fissa di moro Il protagonista Della fuga in auto Al posto di controllo Dei carabinieri Nella Mercedes C'era ogni genere Di arnesi Da scasso E' stato oggetto Di una raffica di controlli Tra Lazio E Abruzzo Caccia aperta ai complici I ringraziamenti Dei sindaci di Pianella E Monte Silvano Agli uomini Dell'arma A Chieti Carichieti Tensioni agli sportelli Ma c'è il via libera Al nuovo corso L'istituto parla Di operazioni Senza alternative Salvato però Il tessuto Sociale Francesco Trivelli Sindacalista Da CGL Prezzo da pagare Ma ora chiediamo Di tenere conto Delle criticità E allora Andiamo ad ascoltare Su questa vicenda Della Carichieti E non solo Le parole Del noto Economista Abruzzese Pino Mauro Professor Mauro Cosa sta accadendo Al sistema bancario italiano E anche Cosa è accaduto Nelle ultime ore Alla Carichieti Alla Banca Carichieti Beh finalmente Possiamo dire Che è finito Tutto un periodo Di incertezza Che si trascinava Ormai da molti anni Per cui Soprattutto Le banche Abruzzesi E la Carichieti Nella fattispecie Potranno cominciare A lavorare Con maggiore Tranquillità E minore incertezza Rispetto al passato Questo credo Che sia L'aspetto Più interessante Da sottolineare Poi è chiaro Che dal primo gennaio Molte cose Cambieranno Per quanto riguarda Le regole del salvataggio Cosa cambia Per i correntisti Di Carichieti Se cambia qualcosa No Per i correntisti Non cambia assolutamente Nulla Mentre per gli azionisti Ovviamente sì Perché le azioni Sono state azzerate Ma perché è accaduto Tutto questo E poi le chiedo anche Quello che è accaduto Alle casse di risparmio Abruzzesi Ha a che fare anche Con l'andamento Economico Della regione Indubbiamente Questo periodo Di crisi Ha influito Notevolmente Sappiamo tutti Che è stata Una crisi Devastante Per cui Molti piccoli Imprenditori Soprattutto Non sono stati In grado Di restituire I crediti Che erano stati In precedenza erogati E questo Ha influito Negativamente Perché ha accelerato Il processo Di Come vi è detto In gergo Di sofferenze A questo si aggiunge Alcuni fatti Alcuni fattori Che hanno Determinato Il commissariamento Che ha ulteriormente Appesantito Il quadro complessivo E quindi Oggi Ecco perché dicevo Prima Oggi Le cose Possono essere Interpretate In maniera Più ottimistica Certo La crisi Che c'è stata In questa regione È stata forte In alcuni Direi In alcuni Grandi aggregati Economici È stata Più incisiva Rispetto Ad altre regioni Però Credo che Anche da questo Punto di vista Ci sia Un segnale Di ripresa Non più Oscillante Ma che sta Diventando Stabile Di giorno in giorno Di nuovo Buongiorno Seconda parte Di mattino 6 Riprendiamo La nostra Rassegna stampa Concludendo Con il messaggero Abruzzo La pagina Della Frentagna Sequestra Malmena La compagna Di casa Il Gup Marina Valente Ha rinviato a giudizio L'aggressore Di 46 anni La donna Era con le valigie In mano Sulla porta Da 5 anni A questa parte I casi di stalking Sono aumentati In maniera esponenziale Percosse Condannato anche Un anziano Vita impossibile Per le donne Secondo la procura L'imputato Sceglie Di andare in aula Per chiarire Meglio A vasto Pista ciclabile Del vallone Lebba All'esame Della corte Dei conti La magistratura Contabile Ha aperto Un fascicolo Opera Costata 600 mila euro A Teramo E provincia Negozi Tre giorni No stop Per rivitalizzare Il centro Di Teramo Parte venerdì Il Black Friday Con sconti In vista Del Natale Aderiscono 120 esercizi Previsti Concerti Con gli artisti Di strada Il comune Aprirà I musei Fino alle ore 19 L'assessore Al commercio Marco Tancredi Questo evento Deve essere Istituzionalizzato Poi ancora Fondazione Via La Tercas Dal logo La nomina Del salvatore Pro e contro Dei politici La Marezza Dei risparmiatori Poi ancora Vigili urbani Senza Verbali Contro Sosta Selvagia E poi è finita L'Odissea La piscina Comunale Riaprirà Il primo Dicembre A Giulianova Rom Sfrattato Era proprietario Di una villetta Blitz Ieri Mattia In via Terracini Con carabinieri Polizia Vigili urbani Pompieri Ed anche Una ambulanza Il nomade In precedenza Si era rifiutato Di lasciare L'alloggio Ma aveva La disponibilità Di un'abitazione Con 12 Stanze Aveva intestato La casa Al figlio Per evitare Il provvedimento Sempre a Giulianova Sistemato L'ultimo Cancello La stazione Ora è blindata Dopo i fatti Di cronaca Si chiude Alle 22 E 30 E si riapre Alle 5 Lasciamo il messaggero Abruzzo Passiamo Alla città Il quotidiano Della provincia Di Termo Si riparte Con L'apertura Dedicata A Rifiutopoli Assolto Venturoni Il giudice Smonta Il teorema Della procura Sul bioessicatore Tutti prosciolti C'è L'editoriale Del direttore Alessandro Misson Sentenze Sprecate Poi Ancora Sotto la testata Clandestine Regolarizzate Con il trucco False badanti Straniere A processo In 18 A Giulianova Rom Abusivi Sgomberati Dalla casa Popolare La condanna Del turco E il commento Affidato A Marcello Martelli C'è la fotonotizia Black Friday Scaccia Crisi Maxi sconti Nel weekend Per anticipare Il Natale Varchi Chiusi In centro Per le feste Dopo anni di prove Inutili Teramo Sembra Convincersi In basso La giornata mondiale Nel libro Di Gigliola Izzo I sogni spezzati Dalla violenza Di genere Entriamo Nelle pagine Della città Rifriutopoli Assolto Lanfranco Venturoni I giudici Smontano Il teorema Della procura Di Pescara Assolti anche Rodolfo Ed Ettore Di Zio Di Stefano E Cardarella Ecco qui Le assoluzioni Il fatto non sussiste Per Venturoni Rodolfo Valentino Di Zio E Fabrizio Di Stefano Il fatto Non costituisce Reato Per Ferdinando Ettore Di Zio E Vittorio Cardarella Ancora Teramo Anticipa Lo shopping Di Natale Nel fine settimana Scatta il primo Black Friday Sconti del 30% In 120 negozi Bar e ristoranti Aperti Fino a Tardi Musei aperti Anche di sera Concerti dal vivo Performance Di artisti Di strada Intrattenimento In tutto Il centro storico Il fine settimana Segna l'inizio Delle festività Luminarie Sistemate E rimorso Il cantiere Lungo il corso Sul termo Black Friday Abbiamo realizzato Un servizio Vediamo Il Black Friday È un giorno Importante Dove Nei paesi Dove questo È diventato Una tradizione È un indicatore Per La guida Diciamo Anche per gli esercenti Per quanto riguarda Il consumo Perché È un indicatore Di quanto ci sia Predisposizione Nella fase Presaldi Del consumatore A comprare Ad acquistare E quale merce Acquistare In questa fase E quindi Credo che per questo Sia importante Io sono felice Perché soprattutto I commercianti I esercenti Fanno squadra Noi in questo Li appoggiamo E li appoggeremo Sempre Perché ci sembra Importante Riportare L'attenzione Su quello Che è Il nostro Motore Principale Il motore Della nostra Economia Quanti Quanti sono I commercianti Che hanno Aderito A questa Iniziativa Siamo Oltre 120 E qui Devo dire Che va fatto Davvero Un ringraziamento Come dicevo Poco fa A tutti i colleghi I quali Sono stati Sollecitati E hanno Aderito In maniera Massiccia Un invito Potrebbe essere Rivolto Anche fuori Al Terramano Assolutamente Sì Proprio perché Poi la comunicazione È stata fatta Su tutta la provincia E soprattutto Regione Soprattutto Sulla costa Proprio perché Ci auguriamo Che siano in tanti A venire a Terramano Considerando Poi la scontistica Devo dire Molto impegnativa Ma molto importante Anche per i clienti Le proposte Ricordiamolo Sono di oltre 100 punti vendita Scontate Fino al 30% Esatto Ogni negozio Indicherà la propria Scontistica Partiamo venerdì 27 Tra l'altro Con l'illuminazione Accenderemo Le illuminazioni Natalizie Che questa È la prima volta Che succede Poi avremo Il sabato Apertura totale Fino alle 24 Con delle band Che gireranno Per la città E poi domenica Avremo degli artisti Di strada E saremo aperti Anche la domenica Sempre a Terramo Primo Natale A barchi chiusi In centro Quest'anno Non dovrebbe scattare Ormai inutile Apertura In nome Dello Shopping Luci Accese anche Di giorno Altro che Spending Review In centro È tutto Uno spreco Di energia Qui si nota Un lampione Inutilmente Acceso In piazza Martiri Come riporta La didascaria Sono le ore 14 Tutto È partito Anche da alcune Segnalazioni E denunce Fatte al quotidiano Da alcuni lettori Un weekend Con gli alpini Nella nuova sede I responsabili Delle penne nere Si radunano Alla baita alpina Con il presidente Sebastiano Favero Poi ancora In provincia Nuovi interventi Per fermare La furia Del vomano Terminati i lavori Per le nuove Briglie In arrivo 1.300.000 euro Per contrastare L'erosione Più a valle Vincenzo Di Marco I danni Causati Dall'antropizzazione Si sono sommati Negli anni Quelli causati Da interventi Sbagliati Che piuttosto che risolvere Hanno alterato Le condizioni Dei sistemi Fluviali Contribuendo All'erosione Della Costa Questo appunto Dice Il consigliere Di Marco E poi Caso Vomano Il fenomeno Erosivo Del fiume Terramano È diventato Un caso di studio In Italia Per la sua Entità Avanti ancora La cronaca False Badanti In 18 Vanno a processo Assunzioni Farlocche Per favorire La permanenza Di stranieri In Italia Il patteggiamento In tre Hanno deciso Di patteggiare La pena di sei mesi E una multa Di 1000 euro A Giulianova Roma Abusivi Sgomberati Della casa Popolare Blitz Mattutino Di carabinieri Polizia E vigili urbani In una palazzina Ater di via Terracini All'annunziata Un tratto Un tratto della strada È stato interdetto Al traffico Mentre L'erogazione Del gas metano Limitatamente All'appartamento Interessato Dallo sfratto È stata Sospesa La stessa sorte Toccherà breve Agli altri inquilini Che occupano Le case Abusivamente Poi Ancora A Roseto Non mischiamo Il lavoro Con la politica La Ciancaione Risponde al Dierer Sulla nomina Rispettate Le regole Il Dierer Lancia accuse Senza sapere Ad esempio Le domande Pervenute Sono state 40 E non 2000 La cultura Un fuorilegge Della letteratura Addio Dan Fante Aveva 71 anni Attorno alla sua Scomparsa Si è creato Anche un Caso Andiamo Alle pagine Dello Prima dello sport Ci fermiamo Qui Fondazione Veronesi In 300 Al Sayonara Per sostenere La ricerca Raccolti I fondi utili Per assegnare Una nuova borsa Di studio Ad un Ricercatore E poi Ancora Lo sport Come preannunciato Siamo alle parole Del capitano Del Teramo Ivan Speranza Le critiche Devono spronarci Ivan Speranza Sulla via del recupero Dobbiamo cambiare mentalità Ogni gara È come una Finale Verso la gara Con il Siena Torna a disposizione Altobello Mentre per rotta Sconterà La terza E ultima Giornata Di Squalifica Poi ancora in basso Per il motociclismo Lorenzo Petrarca Da spettacolo Anche in Spagna Il giovane pilota Montorriese Lotta per il podio Nelle due gare Di Valencia Lasciamo la città Lasciamo la città Torniamo a proposito Di sport Sulle pagine Del centro Del messaggero Ripartiamo dal centro Parlando del pescara In particolare del bomber Biancazzurro E della serie B Gianluca La padula La padula La serie A Sì Ma ci andrò Vincendo col pescara Sono arrabbiato Perché potevo fare Molti con l'in più Le voci di mercato Non ci penso E comunque Resto A Cesena Venerdì sera Sarò un ex Ma non ho il dente avvelenato Lì non sono riuscito A ripagare L'affetto Della città E del presidente Del Cesena Campedelli Ci sono le parole Anche del noto Agente Pasqualin 5 milioni Non è azzardato 5 milioni Potrebbe essere La valutazione Secondo Pasqualin Non azzardata Di la padula L'attaccante italiano Più prolifico Del 2015 Ancora fame Lavoro sodo Qui se ti fermi Qualche Settimana Finisci Nel dimenticatoio Poi A livello di notiziario Sul fronte Pescara Fiorillo Più no che sì C'è Aresti E poi Ieri una messa In ricordo Di Zucchini Sul fronte Cesena Drago Senza Diuric Un mese K.O. Rossetti Improta E Dalmonte Anche questi tre Al pari di Diuric Mancheranno Venerdì sera Ore 21 Cesena Pescara La prevendita Attesi 15.000 Spettatori Sugli spalti Del Manuzzi E allora Andiamo Ad ascoltare Proprio Le parole Di Gianluca La Padula Intercettato Ieri sera Dal nostro Paolo Renzetti Questo entusiasmo Sempre più Sempre più nel vivo Dopo la vittoria Dell'ultimo turno C'è questa gara Di Cesena Una prova Di maturità L'ennesima Per il Pescara Sì Direi che in serie B C'è una prova Ogni settimana Che abbiamo imparato Vendendo cara La pelle La pelle A volte Lasciandola Anche Che sto Campionato Non puoi mai Prendere la partita Sottogamba Vedi con la Ternana Abbiamo perso Dei punti Sicuramente Quella di Cesena Sarà Un big match Hai abituato Troppo bene I tifosi del Pescara Nelle ultime settimane Nell'ultima partita Non è arrivato Il tuo gol Ci sei andato vicino Però è chiaro Che segnare Tutte le partite Diventa Oltremodo difficile No Io mi preoccupo Quando le occasioni Da gol Non le ho Ecco Quando le ho Come con l'Avellino E c'è stata Anche la prestazione Sì Mi dispiace Non aver fatto gol Ma vuol dire Che ci siamo E dobbiamo Continuare così La coppia gol La Padula Caprari È la più prolifica Del campionato Per adesso sì Direi che Stiamo facendo bene Ma ci sono altri giocatori Come Sanzovini Cocco I Cappelluzzi Mitriza Che si allenano sempre bene Ci danno una grossa mano L'ultima Gianluca Tornando alla gara Di venerdì in terra Di Romagna Ci saranno quasi mille Tifosi del Pescara Non dico che giocherete in casa Ma ci sarà un grande entusiasmo Anche da parte Del popolo biancazzurro Ma direi che quest'anno Il tifo del Pescara Ci ha abituato bene In trasferta Abbiamo vinto sempre Tanta gente Tanto sostegno Ecco Poi per me A Cesena Sarà una partita importante Scenderemo sicuramente In campo Con la fame E la cattiveria giusta Dentro con lo sport Parliamo in questo caso di Lanciano Con l'attaccante Padovan Lanciano Serve più cattiveria Ma ci salveremo Il difensore regione La verità è che ci gira Tutto storto Oggi Allenamento a Ortona Ferrari Forse recupera Poi un turno di stop Anche al tecnico del Livorno Panucci Queste le decisioni del giudice sportivo Che ha scolificato 12 giocatori Ma non ci sono calciatori di squadra abruzzesi O di avversarie Delle abruzzesi Per la serie D Il Chieti Oggi in Coppa Per riscattare Le delusioni Il derby San Nicolo Amiternina Valevole per la quattordicesima giornata Anticipato a sabato Questo per la concomitanza Con la gara interna Di Lega Pro Del Teramo Che giocherà appunto domenica Ad Avezzano Il club Abbassa i prezzi Dei biglietti A proposito di Teramo Le parole del capitano Ivan Speranza Che dà ragione a Campitelli Il capitano verso il rientro Bemenga lo sfogo del presidente Lui vuole solo vincere E deve essere così Anche per noi Su fronte l'Aquila Con il Prato La società riduce I prezzi Biglietto scontato Per i prossimi due impegni casalinghi Triarico è tornato ad allenarsi In gruppo Vastese San Salvo La rivincita Oggi le semifinali Della Coppa Italia di eccellenza E di nuovo derby All'Aragona Dopo il derby di campionato Di domenica scorsa L'11 gennaio Il processo All'Aquila E a Di Nicola Calcio scommessa E fissata La data del dibattimento Al Tribunale federale nazionale Per il secondo filone D'inchiesta Dirty Soccer I Rossoblu Rischiano Altri punti Di penalizzazione E poi ancora Per il basket Di A2 Chieti Lilo recupera All Star Game C'è anche Marini Del Roseto E poi La polemica Che impazza Nel calcio a 5 In vista Del derby Di venerdì Tra Acqua e Sapone Emegros E Pescara Al Palaroma Acqua e Sapone Pescara Il derby Sul filo dei nervi Dai club Ai tecnici Tra rivalità Comunicati E dispetti Non si prendono proprio Botta e risposta La vigilia Sull'orario di inizio Della partita In contemporanea Con quello Del Pescara Calcio Iannascoli Patroni del Pescara Calcio a 5 Non sarò a Montesilvano La replica Non c'è Alcun motivo Per mancare All'appuntamento E poi Pallannuoto L'Italia Batte la Francia Nel segno Della fratellanza Ad Avezzano Partita blindata Dalle forze dell'ordine Prima vittoria Delle donne In World League Lasciamo il centro Sono gli ultimi minuti Di questa nostra Rassegna stampa Andiamo con il Messaggero Abruzzo Le pagine Dello sport Vi mostreremo Anche un ultimo Servizio Cesena Gol Senza Rancore La Padula Bomber Biancazzurro In Romagna Non sono riuscito A sfondare Adesso voglio segnare E batterlo Il mercato Non mi interessa Penso solo a migliorare Devo fare di più Bastano due partite Per tornare Nell'anonimato E poi i complimenti Fanno piacere Ma con le occasioni Ma con le occasioni Che creiamo Avrei dovuto Segnare Di più Conclusa la missione In Uruguay Per il DS Peppino Pavone E per il notiziario Fiorillo Verso il Forfè C'è Aresti Benali E ok Break Per il basket Basket Di A2 Allen Il bomber silenzioso Che ha cambiato Roseto Queste tre vittorie Hanno creato un bel ambiente Intanto a tavola Fa onore alla cucina Abruzzese Questo è appunto Byron Allen Torniamo alla serie B Padovan E parliamo di Lanciano Il gruppo Virtus Non muore mai Serve più cattiveria Per ribaltare Una situazione di classifica Che non meritiamo Per quello che abbiamo fatto Sul campo Rigione Assicura Ci alleniamo al massimo Per conquistare i tre punti Contro il Latina Poi ancora Per la Lega Pro Iannini Un premio Per fare un passo avanti In società L'impanditore potrebbe rivestire Un incarico Nel club È stata fissata Per l'11 gennaio La prima udienza Del processo Dirty Soccer Sul calcio Scommesse E infine Per il Teramo Speranza Teramo Col Siena È una finale Chiudiamo qui Dunque questa nostra Rassegna stampa Manderemo in onda Ora un servizio Proprio con le parole Pronunciate ieri Dal capitano terramano Ivan Speranza Successivamente La sigla di chiusura Di mattino 6 Quindi a me Non resta che Appunto Salutarvi E ringraziarvi Per averci seguito Nel corso Di questa mattinata Grazie anche a Claudio Di Giacomo Che ha curato La parte tecnica Di questa trasmissione Vi ricordo Gli appuntamenti Informativi Del TG6 Ore 14 19 e 23 Poi alle 21 Non mancate All'appuntamento Con Virtus Style La trasmissione Sulla Virtus Lanciano Curata e condotta Da Alessio Gian Cristoforo Grazie per l'attenzione Buona giornata Conosco molto bene Conosco la sua La sua voglia Di vincere sempre La sua La sua passione Che ci mette Qui nella Terramo Calcio Quindi è normale E ci deve essere Solo da sprono Prendere le sue parole Solo da sprono E da E da E da E da Aiuto Per tutti noi Perché lui Giustamente Gli piace solo vincere E deve essere così Anche per noi Perché la nostra mentalità È sempre stata questa Comunque Una mentalità Abbastanza vincente Derivata anche Da lui Soprattutto da lui Quindi dobbiamo Cogliere il suo sfogo Le sue Le sue Esternazioni In maniera positiva Solo per Per far bene Per E per Vincere Ma le mie condizioni Ho iniziato A correcchiare Venerdì Quindi Stiamo andando Giorno per giorno Vediamo un pochino La condizione I dolori Fisici Come sono Valutiamo giorno per giorno Insieme allo Staff Tecnico E medico Purtroppo le squadre Ci conoscono Ci conoscono Dall'anno scorso Sanno come giochiamo Quindi Adottano La tecnica migliore Che loro Che nel senso Ci aspettano E magari ci ripartano E noi Avendo quella voglia Comunque di Far gol Di sempre Propositive Di andare avanti Magari ci sbilanciamo Anche Troppo A volte Dobbiamo essere bravi A calarci In questa mentalità Nuova E di Lottare di più Nel senso Di essere Come ho detto prima Più compatti Sacrificarci di più Per il compagno Che magari È la cosa migliore Secondo me Magari In queste partite Magari c'è stato Un po' di meno Però la cosa migliore È uscirne Con il gruppo Perché il singolo Secondo me Non è che Ti può Vincere Tutte le partite Per il Grazie a tutti